Bene ragazzi come sempre è ZAMP che vi parla e oggi sono tornato con un nuovo video visto che la volta scorsa mi avete suggerito whack your boss e vi è piaciuto veramente tanto whack your ex vi è sorto fin da subito a lasciare un bel mi piace cerchiamo di arrivare ad 8000 likes ed eccoci qui con il video di oggi bene suppongo che questo che ha una testa cioè raga è un pene la sua testa guardatela con attenzione ha un pene al posto della testa vabbè comunque ci sta dicendo qualcosa e io penso che potremmo anche decidere di spaccargli qualcosa in testa tipo computer lo sapevo che gliela avrebbe distrutto in testa lo sta ancora massacrando cioè ah e lo riporta a posto cioè tranquillamente tutto rotto e giustamente anche incazzato perché gli si è rotto lo schermo non di meno cleaner che cazzo oh mio dio che è sta roba non ci voglio non ci voglio crede cioè è davvero arrivato lo strozzo a pulire i resti del nostro capo morto ok senti mi hai rotto il cazzo quindi credo che ti sbatterò contro no non l'ha sbattuto contro la parete mi ero immaginato più una scena in cui lo distruggeva contro la parete invece a quanto pare ne ma che cazzo c'è gente che fugge nell'ufficio perché schizzi di sangue ovunque credo che questo sia ancora il nostro capo guarda come lo insegue malignamente la troia la giurella oddio lo sta mettendo un buco nel culo aiuto aiuto raga ma è massacrante cioè lo sta distruggendo altro che guacchiorezza senti che roba lo sta picchiando assai oh mio dio ecco cosa c'entrava la cazzo di parete guarda il sangue l'ha fototamente devastato e mo si mette a sentire la musica e richiama il cleaner che arriva e scappa via che cos'è questa una pinzettatrice oh mio dio ce lo sta uccidendo con una pinzettatrice gli ha pinzettato gli occhi o la bocca non l'ho visto oh mio dio ma questo è il cazzo di numero uno oh questa è una mangetta che potrebbe contenere una bomba ah no molto semplicemente viene usata per come oggetto contundente per massacrare proprio che cazzo gli è successo alla faccia quanto è cattivo comunque lui cioè guarda gli occhi che c'ha è come una ma perché sei stronzo è solo il tuo capo non puoi massacrarlo così una tazza sarà di caffè no molto semplicemente ogni oggetto può essere usato per uccidere il nostro oh mio dio cioè è più cruento di god of war sta roba io ragazzi ho ancora visto troppa poca cruenza ma questo ombrello mi ispira veramente da cosa fa oh mio dio guarda com'è rimasto sembra davvero un pene guarda oh mio dio c'ha la bocca così ah c'è una penna qui che non abbiamo ancora usato avrei detto che gli ci avrebbe tagliato la gole che schifo gli sono usciti tutte le budella ah ok gli ha anche tagliato la gola cioè tagliato che schifo cioè sembra sembra lo stronzo di vacca che trovate in campagna e lui sembra con la testa di sopra fosse marrone direi che è merda vedo una mazza da golf che cazzo l'ha massacrata oh mio dio guardalo come scorre via guardalo vorrei fuggire ma non posso pure dai sulla schiena no però che fa guarda come fa con la testa così è un cane è un fottuto cane cazzo ha ucciso un cane non il suo capo una lampada oh mio dio tu tu suona le campane guarda sembra frate quando tira giù il cordone delle campane eh così in fretta l'ha ucciso con questa va bene no ah ok mi sa che non è ancora morto infatti cosa fa ma cosa fa spogliazione di cadaveri questa oh mio dio è un gioco è un cazzo di genio lo sta friggendo dio santo la cattiveria è nero solo sul piede dovrebbe essere tutto carbonizzato però vabbè telefono bam sta arrivando una telefonata per lei mister cosa fa cos'è una carotta come sul padrino lo strangola con la cornetta del tele anzi non è la cornetta è quel filo di merda che non ho mai capito come si chiama forse è filo oh mio dio è diventato blu prima di morire l'ero tra la la per uccidere il mio capo solo l'imbarazzo della scelta oh bam tastierata on the head e guarda come piange ti spacco la testa con la mia tastiera yo bro yo non è ancora finita eh usalo per sgozzarlo oh mio dio che schifo ma gli sbucata dietro eh lo vedo lo so bene gli sbucata no era molto più scenico se la facevano spuntata dietro il collo c'è anche una bottiglia d'acqua poi giù anzi un contenitore io pensavo gliela facesse bere cosa fa cosa sta facendo è completamente impazzito gliela fa bene per davvero oh mio dio ma non così guarda le gambe ma che cazzo fa sembra un ragno che si libera ogni scaravaggi quando si girano sulla schiena che non riescono più a girarsi parca troia guarda che occhi oh mio dio perché poi esce il sangue ok siamo esattamente a metà strada c'è un richellino che cazzo eccio tu ma gli ha fatto un quickscope manco si è accorto guarda che roba il sangue esce cestino con cartaccia per me glielo ficca in testa oh la madonna no gli ha tipo distrutto la teppia che cazzo ha schizzato tutta la stanza ok in testa glielo ha ficcato ma guarda quanto è cattivo l'ha massacrato un cassetto buongiorno capo salve vorrei prendere questo plico per si sa ficcaglielo esattamente proprio dove sta pensando lei nel buco del culo ma esatto capo aspetti solo due secondi che le faccio uscire tanta di quella merda dal cassetto che veramente lei non potrà far altro che assaggiarla con la sua testa guarda è proprio lo sta fissando dicendo adesso gli prendo la testa e gli ce la sbatto dentro SPAM dovevo farlo io ma ok lo sta suonando come una fisa armonica cazzo che schifo cioè non gli deve più rimanere la testa per quando ha finito che schifo cazzo sta sputando più sangue del Gesù che schifo è mi stanno a venire i brividi io sono pure sensibile a vedere queste cose ok non ce l'ha più la testa era realistico mio dio è rimasta dentro al cassetto cazzo ma è più splatter di un film horror e l'appendi panni è dritto un moce appende a lui è la testa a vedere cosa fanno ci roteva la madonna dritto proprio nel collo cioè senza nemmeno farci senza nemmeno farsi vedere spanga dritto nel collo però è stata la morte più indolore questa anche l'orologio può essere usato ma che cazzo ma è crazy cioè lo odiano tutti lì dentro praticamente si giocano a frisbee con l'orologio e lo massacrano porca troia e sgattagliono la via spam merda gli ho dato pure un calcio nelle palle pensa quanto è cattivo guardate quello dietro raga raga guardate quello dietro come sta messo grande bro aha questo qua sopra ma che cazzo guardate la faccia raga guardate che faccia c'ha il capo figlio di troia adesso te la spacco nel culo quest'anta l'ha paunato Cristo lo sta fottutamente paunando la lingua c'era la lingua che gli si muoveva che schifo le forbici ecco cos'era capo sa ho appena comprato queste nuove forbici da Ikea e tagliano veramente bene vorrei provarle su di lei che schifo guarda il muro dietro e gli è rimasta la forma porca troia e lui continua a gocciolare come una fontanella ah ecco cosa non ho fatto non ho provato su di lui la sua matita che cazzo sentite che persi sta fanno ah la ma le mani non ho e pendele a pugni malamente cioè gli ha distrutto è arrivato Mike Tyson destro sinistro destro sinistro cioè l'ha ucciso ha fatto una kill feed di pugni senti che roba e poi se ne torna al suo posto ok ci mancano tre oggetti che ad essere un'età ah questa qui oh mio dio gli ha rotto tipo il naso eh gli occhi che schifo ma è un cazzo di serial killer questo non è un dipendente cioè il capo che cazzo gli ha fatto per essere ridotto così ah il suo seggiolino e siamo a tre cosa gli fa col seggiolino fammi capire poi seggiolino è la se oh mio dio cosa cazzo no questa è la più figa cioè è il numero uno l'ha buttato dalla finestra con tutti i dipendenti che guardano non ci va in galera sta tranquillo bro eh grande zio piace veramente quando fai queste cose che cazzo ah no raga non avevo usato il più palese questo qua sotto che non so che cazzo sia credo il case di un computer cioè era più scontato l'unico che io credevo di aver usato e non ho usato cioè guardate che roba è un tripudio di violenza sto gioco comunque vabbè ragazzi il nostro video finisce qui io spero vi sia piaciuto in caso come sempre vi è sorto a lasciare un bel mi piace un commento e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale noi ci vediamo con un prossimo video beh ragazzi ciao da Zampetti bella